Allarga nella parte in cui opera Insigne, addomestica il pallone, punta l'avversario, prova Insigne, mette in aria verso Mertens, poi Nagatomo sbaglia, Kayakol, aderrete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Napoli in vantaggio al 43esimo minuto, con questo errore di Nagatomo ne ha approfittato il caballero triste, Kayakol che non perdona da quella posizione e segna il quarto gol personale all'Inter, l'altra è forte, è il Corazon, quando marca? Kayakol, quando marca? Kayakol, Napoli 1, Inter 0 al tramonto nel primo tempo, Napoli che va in vantaggio, Napoli che adesso può gestire al meglio la partita e soprattutto tenere questo vantaggio con Kayakol, che ha sbloccato il risultato e manda in visibilio i 5.000 tifosi del Napoli presenti qui a San Siro, tutti col gettone in mano, venite, accomodatevi, salite tutti sulla giostra, è gratis, offre José, Maria, Pepe, Kayakol!